San Wakan? Dei vicini inaspettati. Dicono che ci somigliamo. Questo è il tuo negozio. Apri una sartoria invece del ristorante e quello strano sono io. Una lotta tra due famiglie. La guerra è guerra sia. Sono molto felice di essere qua con te. E un amore che supera ogni pregiudizio. Però sai che se mi baci poi mi devi sposare. Rani? Per il ciclo purché finisca bene, Questione di Stoffa. Questa sera, 21 e 30, Rai 1. Robert. Rai 7 Grazie a tutti